Vioni, allora la cura Vioni sta iniziando a fare i suoi effetti? No, no, nessuna cura. Siamo riusciti per fortuna a fare un risultato per noi importante. Sicuramente la squadra ha mostrato qualche progresso, ma siamo all'inizio di un cammino che purtroppo sarà ancora lungo e tortuoso. Lei temeva il Ghivizzano, però è una squadra che offre anche gli stimoli giusti e anche gli spazi giusti per colpire. Il Ghivizzano è una squadra difficile da affrontare, molto difficile. È una delle più difficili sicuramente del campionato perché fa un buon calcio e organizzata bene. Noi gli stimoli in questo momento li dobbiamo avere tutte le domeniche contro qualsiasi avversario. Purtroppo siamo di rincorsa e dobbiamo pedalare il giusto per cercare di raggiungere l'obiettivo. La partita con il Pozzacco è ancora più importante? È uno scontro, è uno scontro di basta classifica, è uno scontro che conta, è uno scontro per noi che andiamo alla ricerca sempre del massimo risultato possibile, da cercare di portare a casa sicuramente. Grazie. Grazie.